A stretto, per arrivare a fargli buco, qua giù è una bocca abbastanza grande, non può essere che all'inizio pensavo una volta. Questi due agnellini sono stati uccisi dai lupi alle 9 del mattino, ma per questo allevatore è l'ennesimo attacco. In pochi mesi sono stati uccisi circa 40 capi. Ci troviamo nel comune di Terra Nuova Bracciolini, località Campo Gialli, e a pochissime centinaia di metri ci sono le abitazioni. Anche qui c'è una strada che vengono a bicicletta la gente o anche i bambini che fanno passeggiata e si rincontrano questi animali. Io penso che non sia una sorpresa per un bambino, ecco, la favola del capucetto rosso. Qui è proprio vera. Un fenomeno, quello degli attacchi dei lupi, che ormai ha davvero una dimensione importante in Toscana. Basti pensare che per il triennio 2014-2016 sono state presentate domande di indennizzo riferite a 1.348 attacchi di predatori, un danno che supera i 3 milioni di euro. Io sono arrivato a un punto che non so più cosa fare la mattina, di venire a controllare l'animale o stare a letto, perché forse mi arrabbio meno. Se anche io sono a guardare le pecore e mi scappa un lupo, mi entra dentro, mazzanna la pecore, che li faccio io? Cioè, li corro dietro, ci vorrebbe cambiare buone. Purtroppo le mie non sono, ma anche se fosse, purtroppo è un predatore. Chi è che si avvicina senza un'arma a questi animali? Secondo lei da dove arrivano questi animali? Questi animali possono essere anche dietro di noi. Noi siamo qui a parlare, qui c'è un po' di sporco, ci può essere.